Giornate assolutamente convulse queste di fine anno, nella confusione generale una sola certezza, una cosa che non cambia mai, che prosegue senza sosta in un'unica direzione, la borsa americana che continua a salire frantumando record su record. Non è una novità ovviamente, anzi è proprio una conferma. Wall Street sui massimi a fine anno aiuta le aziende a presentare bilanci migliori e quindi nessuno si stupisce. Come è andata la borsa americana nell'anno in corso? Beh, sinteticamente, l'indice di riferimento della borsa americana, lo Standard & Poor's 500, dopo il crollo avuto allo scopio del Covid-19, crollo durato un mese, dal 20 febbraio al 20 di marzo, il mercato si è ripreso e nel mese di agosto, quindi cinque mesi dopo, era già tornato sui livelli precedenti allo scopio dell'epidemia. Un paio di mesi di assestamento, quelli di settembre e ottobre, per poi concludere con gli ultimi due mesi, appunto quelli di novembre e dicembre, nei quali la borsa americana è schizzata ancora all'insù, facendo segnare, come dicevo, massimi storici che erano davvero impensabili anche qualora non ci fosse stato il Covid. Insomma, è una situazione paradossale, sì, ma nulla in confronto a quanto è accaduto al Nasdaq, cioè l'indice della borsa americana che raggruppa i titoli cosiddetti tecnologici. Dopo la discesa di febbraio-marzo, infatti, il Nasdaq è ripartito a razzo praticamente senza mai fermarsi. Vi do qualche dato così per farvi rendere conto di quel che è accaduto. Allora, il Nasdaq ha cominciato l'anno che valeva intorno ai 9.000 punti. Nel primo mese e mezzo di contrattazione, cioè nel periodo pre-Covid, si è avvicinato ai 10.000 punti. Poi è sceso sotto i 7.000 punti appunto a causa del Covid e dal 20 marzo però è ripartito a razzo e ora vale quasi 13.000 punti. Quindi dall'inizio dell'anno il Nasdaq guadagna il 45%, rispetto ai massimi minimi raggiunti prima del Covid guadagna il 31% e rispetto ai minimi dopo il Covid guadagna quasi il 90%. Insomma, verrebbe da chiedersi, ma se non ci fosse stato il Covid dove sarebbe arrivato? Ma non solo, ricordiamo anche che quest'anno il prodotto interno lordo mondiale subirà la più forte contrazione mai registrata nel dopoguerra. Quindi insomma, fate un po' voi insomma. Ma è un discorso che ho già fatto altre volte qui, ma che comunque riprenderemo ancora in futuro, senz'altro. Tuttavia in Italia non si parla di questo. Ciò del quale si parla in Italia invece è del nuovo partito di Conte. E allora io mi domando immediatamente, ma che giudizio dobbiamo dare su questa nuova ipotetica formazione partitica che sta per nascere? Ebbene personalmente ritengo che se davvero dovesse nascere il partito di Conte sarebbe un partito vomitevole. Conte aveva già dato l'idea di essere una persona inaffidabile e soprattutto ambigua anche in precedenza, ma ne abbiamo avuto poi la più evidente prova, la prova più lampante in quel video nel quale parla con la Merkel cercando di accreditarsi agli occhi della cancelliera in una maniera, oserei dire, subdola. Da una persona del genere, come suol dirsi, non comprerei mai una macchina usata. Sarei certo che vorrebbe rifilarmi una fregatura. Occorre tenersi alla larga. Purtroppo invece i nostri media continuano a dosannare questa persona che potrebbe portare, anzi forse lo ha già fatto, l'Italia al fallimento. In caso di fallimento il nostro paese verrebbe depauperato, impoverito insomma. E naturalmente quando si dice il nostro paese si sta usando una metafora. Si intende ovviamente i cittadini del nostro paese, ossia il popolo, gli italiani. Ed è proprio vero che al peggio non c'è fine. Se vogliamo trovare una cosa positiva che Conte ha detto in questi giorni è che il vaccino non verrà reso obbligatorio. Ma anche per questo non bisogna esultare. Alto, fate tranquilli, mi spiego subito. Non bisogna esultare perché se andiamo a vedere le dichiarazioni fatte da Conte, da quando è Presidente del Consiglio, la maggior parte delle volte poi ha agito in senso contrario. Quindi da una persona così inaffidabile, occorre attendersi di tutto, è specializzato nel dire una cosa e fare l'esatto opposto. Perché vedete, ogni persona ha una sola dignità e quando la perde, la perde. Non ce ne sono altre di riserva. Quindi una volta persa, che cosa volete che resti ad una persona? La vergogna? Ma no, persa la dignità, non ci si vergogna più di nulla. Ma poi Conte, a mio avviso, ha avuto quella uscita, ossia che il vaccino non sarà reso obbligatorio. Perché sa perfettamente che dire il contrario sarebbe oggi molto impopolare. E sono moltissimi gli italiani che non si fidano di quel vaccino e non hanno assolutamente nessuna intenzione di farsi iniettare nulla. Quindi lui ora cerca di lisciare così un po' gli italiani, lasciando ad altri principianti della politica, come il viceministro Sileri, di esporsi con dichiarazioni del tutto impopolari oltre che naturalmente folli. Vedrete che se alla fine vorranno rendere obbligatorio il vaccino, Conte si adeguerà e dirà senza vergognarsi l'esatto contrario di quanto appena ha detto. Gli esempi di questo tipo, ma ne abbiamo a bizzeffe, prendiamone solo uno, solo il MES. Ricordiamo tutti infatti quel video nel quale una conferenza stampa pubblica dice perentoriamente MES assolutamente no. E poi invece va in Europa e ha votato sì alla riforma del MES. È lecito cambiare idea? Certo che è lecito, ma in quel caso e nella quasi totalità dei casi Conte non ha cambiato idea. Semplicemente quando diceva una cosa, come ad esempio MES assolutamente no, semplicemente mentiva. Sapeva già infatti che dovendo rimanere suddito dell'Europa avrebbe dovuto votare sì. Quindi per questi motivi, suffragati, ripeto, dall'esperienza di Conte a Palazzo Chigi, per questi motivi dicevo non c'è da fidarsi. Ma poi io mi chiedo, si dice che almeno il 20% dei medici non vuole vaccinarsi, ma sembrerebbe poiché siano molti di più. E allora una persona intelligente, anziché scandalizzarsi, dovrebbe chiedersi perché? Perché un numero così elevato di medici non vuole vaccinarsi? Invece no. Cioè a questa scelta assolutamente responsabile di moltissimi medici si risponde con l'autoritarismo, con la prepotenza, con la tirannia, oserei dire con la violenza, minacciando la sospensione dal lavoro. Si arriva a dire che i medici che non vogliono vaccinarsi sono indegni. Ma come? Fino ad oggi sono stati dei bravissimi chirurghi, dei bravissimi oncologi, dei bravissimi cardiologi e così via. E oggi? E oggi invece sono diventati degli indegni, semplicemente perché non vogliono iniettarsi qualcosa della quale non sappiamo quali effetti possa avere a lunga scadenza. Mi farebbe davvero piacere se veramente il 20% dei medici si rifiutasse di vaccinarsi e fosse sospesa dal lavoro. Come si ridurrebbe la sanità in Italia? Altro che i livelli del terzo mondo. Lo ripeto, se un numero elevato di medici è contrario alla vaccinazione e un altro numero altrettanto elevato di medici alla fine forse si vaccinerà solo per non subire ripercussioni a livello professionale. Ebbene un motivo ci sarà e quindi sarebbe non solo lecito ma addirittura necessario discutere, ragionare. Invece proprio questa chiusura totale al dialogo, questa chiusura totale alla ricerca della verità che poi sta alla base del metodo scientifico, scientifico, della scienza, ebbene questo è un comportamento assolutamente sospetto. Eccolo il paradosso, cioè chi si dichiara fautore della scienza, questi virologi, quant'altro che vediamo sempre in tv, ebbene proprio questi sedicenti scienziati auspicando in posizioni autoritarie nei confronti dei colleghi che non la pensano come loro, beh di fatto adottano un comportamento totalmente antiscientifico. Eppure sono passati 400 anni da Galileo. Evidentemente non è cambiato molto, probabilmente in talune persone l'arroganza e la prepotenza deve essere connaturata. Grazie a tutti.